Allora Laura, senti, perché il latte nell'alimentazione umana è così importante? È importante perché il latte è uno dei pochi alimenti che contiene tanto calcio rapidamente assorbibile e il latte inoltre ha anche poche calorie essendo composto essenzialmente da acqua. Quindi rispetto ai formaggi che hanno più calcio del latte, è più utile perché appunto ci permette di contenere calorie, sale e grassi a fronte di un valore nutrizionale molto alto, buone proteine, tanto calcio e tanta forza anche dopo lo sport. Ah, quindi per questo che i bambini ne devono bere tanto? I bambini ne devono bere tanto per due ragioni, perché i bambini hanno un fabbisogno di calcio più alto di quello degli adulti perché le loro ossa stanno crescendo. È possibile anche raggiungere i fabbisogni di calcio anche senza latte, ma è più complicato. E poi si perdono appunto delle fonti proteiche importanti e anche dei grassi importanti. I grassi del latte, pur essendo dei grassi saturi, sono meno dannosi degli altri grassi saturi. Grazie mille!